Ebbene, vediamo oggi la tavola 42, realizzeremo in assonometria cavaliera la proiezione ortogonale di due solidi che si compenetrano in parte, quindi vedremo un attimo anche come funziona l'intersezione tra questi due solidi. Allora divideremo il foglio come solido, nella parte alta, nella metà alta, disegneremo la proiezione ortogonale di questo solido e nella parte bassa disegneremo, in questo caso, l'assonometria cavaliera, quindi l'assonometria dove gli assi sono inclinati di 30 e 60 gradi. La vediamo prima la proiezione ortogonale di questa figura, eccola qui, è così rappresentata, abbiamo la vista dall'alto, è praticamente un solido a L più basso di un parallelepipedro più alto, questo solido a L e compenetra, diciamo così, il parallelepipedro, quindi vediamo bene in questo modo le viste con tutte quante le misure, questa è la parte data. Chiaro che nella vista frontale vedremo il solido più basso, dietro il solido più alto e vedremo anche questo spigolo che in realtà rappresenterebbe sia lo spigolo del solido alto, ma nel nostro caso rappresenterebbe anche lo spigolo che troviamo avanti di questa parte da 2 cm, e così la vista laterale dove vedremo lo spigolo laterale e il solido più alto che è avanti e dietro, in parte visibile e con diversi spigoli nascosti, il solido più basso. Allora, vediamo adesso di costruire l'assonometria cavaliera, procederemo come sempre, nel senso che disegneremo prima nel piano orizzontale la vista che è in proiezione sul PO, quindi esattamente con le stesse misure, ricordo che essendo questa assonometria cavaliera di 30 e 60 gradi, la figura non subisce nessuna deformazione, per cui anche gli angoli rimangono invariati, quindi la prima cosa lo ridisegneremo così come è, qui non ho riportato le misure, in quanto sono le stesse che troviamo nell'altro disegno. Passaggio successivo in cui cominceremo a tirare sull'altezza. Iniziamo con il solido più alto, la cui altezza è 6 cm, quindi porteremo su i 4 spigoli di 6 cm e poi passeremo al solido più basso. Adesso il solido più alto l'ho disegnato in magenta per differenziare le altezze e quindi disegneremo le altezze di 3 cm del solido più basso, quindi lo disegneremo negli spigoli visibili ma anche negli spigoli dell'intersezione dei solidi. Inizieremo quindi a chiudere nella parte alta i solidi, prima lo faremo del solido più alto, color magenta, e poi lo faremo per il solido più basso. Adesso quello che dobbiamo studiare un attimo, come sempre, è l'intersezione, cioè quello che succede in queste parti e quali sono gli spigoli visibili e quali sono gli spigoli nascosti. Procediamo per gradi, vediamo prima il primo solido più alto, quindi disegniamo gli spigoli, in realtà qui c'è un errore perché questa parte qui, come vedremo poi, andrà tratteggiata, quindi non è la parte continua. Lo faremo la stessa cosa per l'altro, no scusate ho sbagliato, va bene in questo modo, lo faremo anche per il solido più basso, chiaramente qui ci sarà una parte che va disegnata tratteggiata in quanto è nascosta da questa faccia laterale e così poi dopo ripasseremo tutti quanti gli spigoli. Occhio a quello che succede in questi spigoli, che in realtà non sono spigoli, non sono stati ripassati né tratteggiati né interi proprio perché sono all'interno dell'altro solido, quindi questa sarà la figura finale. E quindi la tavola completa verrà in questo modo come la stiamo vedendo adesso. Grazie per l'attenzione.